Luigi Carrino, presidente del distretto aerospaziale della Campania. Oggi il distretto aerospaziale della Campania è il più importante strumento che il territorio si è dato in ambito aerospaziale per sostenere gli sviluppi competitivi delle imprese. Con circa 150 PMI, 9 grandi imprese, 11 centri di ricerca tra i quali il Centro Italiano di Ricerca Aerospaziale, il CNR, l'Enea, l'Istituto Nazionale Astrofisica, 5 Atenei Campani, tutto questo insieme messo in rete e ben guidato in attività cooperative può essere veramente la forza d'urto con la quale la Campania è in grado di sostenere le sue imprese nello sviluppo dei prodotti competitivi del prossimo futuro.